Nel 2001 avevo in testa di migliorare la situazione dei lavoratori. Maroni diventa Ministro del Welfare e con la sua riforma rinnova il mondo del lavoro. Nel 2008 avevo in testa la pulizia dalle mafie. Come Ministro dell'Interno ottiene risultati mai ottenuti prima. Più di 20 miliardi di euro di beni sequestrati alle mafie sono restituiti ai cittadini onesti. Nel 2012 avevo in testa la pulizia della politica. Rinnova il suo stesso partito, circondandosi di giovani limpidi e capaci. E oggi ho in testa la Lombardia. Quella che taglia gli sprechi, quella che continua a combattere le mafie, quella che trattiene il 75% delle tasse per farne pagare meno alle imprese, per dare lavoro ai giovani, per creare sviluppo. Ho in testa la Lombardia, la nostra Lombardia. Il 24 e 25 febbraio, scegli chi sa fare.